Vuoi sapere che cos'è il consulente finanziario ibrido? Bene, te lo spiego in due minuti. Come ti ho già spiegato, puoi scegliere la consulenza indipendente anche in banca, quindi pagare il tuo consulente per parcella come un consulente autonomo. Il consulente finanziario ibrido che può lavorare per una banca a stipendio fisso e essere libero professionista, non è questo il punto. In ogni caso, può optare per due possibilità. Con te, per esempio, farsi pagare con la parcella, mentre, magari con un tuo amico o un tuo parente, optare per la consulenza non indipendente e quindi farsi pagare con la retrocessione di parte dei costi che tu paghi acquistando un prodotto finanziario. Riassumendo, perché immagino che hai un po' di confusione, puoi optare per la consulenza indipendente e quindi pagare il tuo consulente mediante la parcella, che sia autonomo oppure indipendente che lavora presso una banca. Oppure puoi optare per la consulenza non indipendente e quindi pagare il tuo consulente con la retrocessione dei costi che tu paghi per quel prodotto finanziario. Poco importa che sia il consulente della banca o un consulente abilitato all'offerta fuorisede, che sia stipendio fisso o che sia stipendio variabile. Penso che un esempio ti aiuterà a capire meglio. Se lavori con la parcella e hai un patrimonio di 100.000 euro, pagherai ogni anno 500 euro, più o meno, di parcella al tuo consulente indipendente o autonomo. Se invece opti per la consulenza non indipendente, non paghi una parcella, ma non è gratis. Come lo paghi? Quando acquisterai un prodotto per i tuoi 100.000 euro e supponiamo che paghi 1.000 euro di commissioni, una parte di queste commissioni vengono girate al consulente o se vuoi alla banca. Se il consulente ha stipendio fisso, ok. Se invece è un libero professionista, prenderà una parte anche lui di quelle commissioni che tu paghi.